mi è appena arrivata la notifica devo andare a giocare per cinque minuti ma te la senti oddio l'ultima volta ho vinto però penso che andrà bene dai 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 speriamo bene io spero che non mi chiami oggi non me la sento ok in caso fammi sapere fammi sapere dove stai appena finisco ti raggiungo si e si e 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 sei sicuro? è stata la prima partita? no, ma non si sabita mai a questo mi spiace no, no, no no, no, no non ti vedo no no Nooo! Nooo! L'hai ripesa, l'hai ripesa, l'hai ripesa, ce l'abbiamo! Facciamo una scena di cuore! È morto Leo, già assassinato! Non adesso.... C'è un po' di più! Non è mai riposo! Non è mai riposo! Il mio pericolino è una scena di cuore! Non è mai riposo! Non è mai riposo! Non è riposo! No! No! Non è riposo! non è come un paolo